Grazie Presidente. Brevemente, noi abbiamo fatto una commissione congiunta ambiente e lavori pubblici, chiaramente, perché è un argomento comune, l'argomento sottinteso alla delibera che oggi andiamo a votare, è comune ad entrambe le commissioni. Insieme abbiamo votato questo emendamento in commissione, quindi questo è un emendamento in commissione di concerto con il Dipartimento Simu e anche ambiente, in cui sostanzialmente aggiungiamo al secondo punto i desiderata che sono stati espressi in quella commissione dal Dipartimento Lavori Pubblici, cioè l'adozione di uno specifico regolamento che dovrà attribuire chi fa cosa per rendere attuate le linee di indirizzo e l'eventuale istituzione laddove quindi se ne senta la necessità di un ufficio apposito, chiaramente entro sei mesi dall'approvazione della presente delibera.